Ciao Danilo Valerio Danilo Piacere Danilo Piacere Danilo Ciao Danilo Farei bisogno del tuo badge Valerio per favore Questo? Si Allora Primo giro che fai? Si Perfetto Un attimo Se no ci puoi anche per passare Eh No, non c'è giusto Questo è già alto No, però Non c'è Un pochino Mostra che non scelta Aspetta Ci sei? Io ti sono Vai L'ho pagato io Occhio allo stop Aspetta Vai Io non conosco Il tracciato Questa non è a pista No, infatti Questa è strada normale Sì Adesso facciamo la rotonda E giriamo a sinistra E giriamo a sinistra Ok 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 Messa la corsia box E tra poco possiamo partire per entrare in pista Vai Sì Iniziamo a frenare Ancora Vedete Bravissimo Il fatto che me lo conosci È tracciato Mi frega È seriato un po' troppo lungo infatti Dai più peso sull'asse anteriore Cioè la cosa è in porta anteriore Più carico dai Più direzionalità noi abbiamo Nel momento in cui Andiamo a fare un accordo Forse con il manuale Riesco da gestirlo un po' meglio Vedete quanto temore Questo è il carburante Uno sotto la metà Uno sotto la metà Uno sotto la metà Uno sotto la metà Questi sono dei colori di Masai Ho visto qualche filmato Eh sì Sì Ho capito che vuole un po' di più Sta cambiando un po' più alto anche lui Eh Ti gestisse in base Alla tua pressione Esatto sì Un po' più Un po' più Un po' più pallino Un po' più pallino Esatto sì Occhio qui c'è un rampino Un po' più Un po' più Un po' più Un po' più Siamo in ordine normale o dinamic? Siamo in ordine normale Sembrava che fosse un po' più lenta nella risposta Riusciamo di qua a destra Mai frenare così sul dritto in pista Mai? Perché ti sballa? No, perché c'è qualcuno dietro che ti dà una legna che te la ricordi a vita No vabbè, è quasi scontato Però ecco, se ti dovessi ricapitare sempre con ruote dritte ti metti sulla destra e frevi delicatamente Ok, ok No, 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 no Cioè, capisco che hai guardato Però purtroppo, te lo devo dire perché Assolutamente Giusto così Qui diciamo che una persona c'è morta Quindi è proprio per questa cosa Ecco Un manuale, tanto da parlare dentro l'altro è un problema Quindi è un problema destra e poi subito dopo a sinistra e poi qui a sinistra e poi a sinistra dietro la blu perfetto grazie ciao adesso recuperiamo il filmato buongiorno